Chi è la casting director? Allora è quella figura che diciamo propone in base a quello che gli aiuti alla regia o i registi chiedono per gli spot, quindi ci sono degli aiuti alla regia o una produzione che decide di fare uno spot con delle figure maschili, femminili, con dei requisiti particolari, devono parlare, non devono parlare, biondi, mori, con i tatuaggi, senza tatuaggi, insomma varie figure quindi noi nel nostro database abbiamo tantissime persone che si rendono disponibili e noi iniziamo a proporre tutte le persone che hanno i requisiti richiesti dai registi.